Canon EOS R50, qualcuno di voi lo saprà già per aver letto il titolo di questo video. Oggi andiamo a vedere le caratteristiche principali di questa macchina e il menu di funzionamento in maniera tale da sviscerare quelle che sono le funzioni principali. Amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare, mi occupo di fotografia. Nel corso di questo video vi mostrerò una macchina che mi è stata mandata direttamente dalla casa perché io potessi raccontarvi quelle che sono le mie impressioni. Le mie impressioni arriveranno nel corso dei prossimi contenuti perché sto attualmente testando la macchina nel video di oggi. Andiamo solamente a vedere le varie voci di menu, in particolare vi farò vedere quelle che uso io, quindi le cose che sono andato a modificare o a cambiare in qualche maniera. Le voci di cui non vi parlerò per niente significa che io le lascio come le trovo di default. Se vi interessasse una voce in particolare di cui io non faccio menzione in questo video fatemi una richiesta in un commento subito qui sotto al video e cercherò di accontentare tutti quanti. Ovviamente consiglio a tutti quanti di iscriversi al mio canale cliccando il bottone qui sotto in maniera tale che se mi fate una domanda su questa macchina poi non andate a perdervi la risposta. Molto bene, ma io direi diamo subito un'occhiata veloce al corpo macchina che come potete vedere oggi è abbinato con il 24-105 STM, quindi più voluminoso di quelli visti in precedenza. Diamo un'occhiata al corpo macchina, dopodiché ci tuffiamo all'interno del menu per vedere le caratteristiche. Molto bene, ma eccoci qui in compagnia della macchina. Io direi andiamo subito a snocciolare le novità, ovvero noi qui abbiamo una slitta nuova, come potete vedere qui abbiamo una nuova slitta proprietaria che non è la solita a cui siamo abituati. Infatti qui non credo che potremo collegare i flash della serie vecchia, ma solamente quelli della serie nuova. Infatti qui abbiamo a che fare con una slitta che è stata pensata per collegare un microfono. Infatti questa macchina non fa mistero di essere pensata un pochino più per i content creator. Quindi qui abbiamo una slitta che ci permette di collegare un microfono di quelli nuovi della serie di Canon e probabilmente, ma questo non l'ho ancora verificato, i flash della nuova serie. Questa è una cosa che devo verificare perché non ho nessun flash di quella serie. L'altra cosa che abbiamo in più rispetto a Canon EOS R100 ovviamente è il display, che come potete vedere può essere tiltato e articolato a nostro piacimento. Questa è una feature molto molto gradevole che sulla vera entry level di casa Canon non avevamo, mentre qui ritroviamo un'altra cosa di cui non si può non fare menzione è il display che in questo caso è touch. Quindi tutto quello che poteva averci fatto storcere il naso su Canon EOS R100 sulla R50 lo troviamo migliorato. A questo punto accendiamo la macchina e andiamo a vedere com'è composto il menu. Partiamo come di consueto dal menu fotografico e andremo dopo a ripassare il menu video. Dunque, nella prima scheda, come al solito, abbiamo la qualità d'immagine, quindi qui possiamo andare a scegliere se avere il RAW o il RAW compresso oppure nessun RAW e possiamo scegliere se avere il JPEG in tutte le sue declinazioni, quindi un JPEG molto piccolo e molto compresso oppure il JPEG a piena risoluzione. Il rapporto, come sempre, possiamo scegliere fra tre mezzi che è quello nativo del sensore, quattro terzi, sedicinoni o uno a uno per tutti i formati social che ci possono servire, teleconverter digitale, qui abbiamo la possibilità di moltiplicare la nostra focale. Ora, fatemi sapere in un commento se questa feature vi interessa, perché io confesso che non l'ho ancora testata e se vi interessa andrò a fare dei test sul campo per farvi vedere come si comporta. Qui abbiamo tutte le solite opzioni a cui siamo già abituati dai precedenti menu Canon nei video che ho già fatto e che vi consiglio di andare a ripescare, quindi qui abbiamo compensazione dell'esposizione se stiamo lavorando in una delle modalità che ce la permettono, quindi per esempio in questo caso abbiamo la compensazione dell'esposizione e abbiamo il nostro bracketing, quindi con il tasto a croce controlliamo la compensazione dell'esposizione e con la ghiera dei tempi controlliamo il bracketing. Sono due cose che io personalmente non utilizzo insieme. Nel momento in cui utilizzo il bracketing di solito sono in manuale, però c'è la possibilità di utilizzarli anche in questa maniera. Abbiamo come sempre le impostazioni della sensibilità ISO, quindi possiamo dirgli che c'è un massimo che non deve superare. Devo dire, qui noi possiamo arrivare fino a 32.000 ISO, che devo dire è abbastanza sorprendente per una macchina di questa fascia. Una cosa che potrebbe rivelarsi carina abbiamo la ripresa HDRPQ, una cosa che io di solito non utilizzo, ma fatemi sapere in un commento se vi interessa perché potrei testarla apposta per voi. Abbiamo poi una modalità HDR dedicata, in questo caso io credo che otterremmo direttamente un JPEG, ma anche questa non l'ho ancora testata, quindi fatemi sapere se qualcuna di queste funzioni vi interessa più delle altre, così che io possa dedicare un po' di tempo in un prossimo contenuto. Ottimizzazione della luce e tutte queste opzioni io di solito non le tocco, quindi passiamo oltre. Controllo del flash, potrebbe essere interessante approfondirlo e vedremo dopo perché. Modo di lettura, abbiamo sempre le solite opzioni di Canon, vi consiglio di andare a recuperare il mio video già pubblicato sui modi di lettura, in cui ne parlo in maniera approfondita. Bilanciamento del bianco impostato su automatico, qui abbiamo la possibilità, come già detto in tanti altri video, di impostarlo manualmente, che è la scelta che io prediligo. Quindi in questo caso andiamo a impostare manualmente la nostra temperatura colore, personalmente io scatto spessissimo e giro spessissimo a 5600 Kelvin, quindi questa per me è l'impostazione ottimale. White balance personalizzato, lui adesso mi farà vedere una foto della panza della mia amicia e noi possiamo scegliere il bilanciamento del bianco di una delle ultime foto realizzate e possiamo prendere il bilanciamento del bianco che c'era nell'ultima foto realizzata o in una delle ultime foto realizzate. Un'opzione che personalmente io non uso mai perché preferisco impostarlo manualmente. Spazio colore, qui abbiamo la solita scelta, sRGB o Adobe, io personalmente sto usando sRGB ormai perché tanto le mie foto di solito vanno direttamente online. Stile foto, sto provando a utilizzare dettaglio fine giusto per cambiare un po'. Chiarezza, vi dirò che questa è un'opzione che a me normalmente potrebbe anche interessare perché essendo io un po' miope preferisco se le mie immagini hanno un po' più di dettaglio, anche se dovrei pensare all'osservatore prima che a me stesso, ciò nonostante mi sono reso conto da precedenti esperimenti che attivare questa funzione ne inibisce delle altre, motivo per cui la lascio a zero e non la tocco più. Filtri creativi di ripresa, ovviamente io non uso niente di tutto questo, però anche qui fatemi sapere se qualcosa di tutta questa roba vi può interessare perché potrei dedicare un video solamente a questo menu. Correzione, aberrazioni, obiettivo. In questo caso io devo dire che le trovo sempre on tutte queste funzioni e quindi ho cominciato a lasciarle on e ad approfittare del fatto che ci sono perché probabilmente funzionano e mi fanno risparmiare un sacco di tempo. Riduci disturbo, lunghe esposizioni e off. Lo potrei anche mettere su auto, in questo modo probabilmente lo farebbe solamente se sto facendo delle lunghe esposizioni, ma preferisco tenerlo off perché mi farebbe perdere un sacco di tempo in quanto la riduzione richiede lo stesso tempo di posa che abbiamo utilizzato. Quindi un minuto di posa, un minuto di riduzione del rumore. Riduzione disturbi sensibilità ad alti ISO, io qui metto sempre standard. Una cosa che ho notato che secondo me è nuova è riduzione disturbi scatti multipli. Quindi questo può essere interessante nel momento in cui andiamo a fare l'HDR di prima. Bracketing fuoco, questa è un'opzione che personalmente trovo molto interessante e sono molto contento che l'abbiano introdotta anche su una macchina entry level come questa. Significa che noi qui abbiamo la possibilità di andare a realizzare una serie di scatti possiamo decidere noi quali e possiamo decidere con quale incremento di fuoco con esposizione uniforme o con esposizione disattivata quindi ogni foto andrà a essere esposta nuovamente. Questa è una funzione molto interessante per chi fa fotografia in un ambito in cui vuole tenere a fuoco una porzione molto ampia e può essere sia paesaggio sia still life. Modalità drive, qui abbiamo le solite modalità quindi scatto singolo, scatto continuo veloce e un po' meno veloce e suppongo che questo faccia riferimento allo scatto continuo con l'otturatore elettronico e con l'otturatore a singola tendina. Dopodiché abbiamo i timer, il telecomando, le solite opzioni che abbiamo un po' su tutte le macchine. Funzione otturatore silenzioso, in questo caso credo che si vada ad attivare l'otturatore digitale. E qui arriviamo a una delle parti che secondo me sono le più interessanti di questa macchina ovvero modalità otturatore, qui abbiamo elettronico prima tendina e elettronico. Questa è una macchina che non ha l'otturatore meccanico come siamo abituati a vederlo quindi è una macchina con cui possiamo giocarcela solamente con elettronico e elettronico prima tendina una cosa che in certi frangenti secondo me potrebbe creare qualche fastidio. Modalità stabilizzazione digitale, io vi dirò che questa come sempre la tengo spenta. Personalizza qui controllo, io questo non l'ho ancora toccato serve ad abbinare una funzione al pulsante Q ma io lo lascio così com'è. Scatto a tocco per scattare toccando lo schermo, non voglio uno smartphone quando scatto con una macchina quindi l'ho disattivato, se no scatterei foto con la guancia ogni due minuti. Visione immagine, qui abbiamo le nostre opzioni due secondi di visione immagine quando abbiamo scattato. Simulazione di visualizzazione, questo è importante perché possiamo decidere di vedere l'esposizione e la profondità di campo solo l'esposizione oppure possiamo decidere di vedere l'esposizione soltanto durante il test della profondità di campo che si fa con un tasto a nostra scelta oppure possiamo disattivare tutto. Ora questo perché è importante? Su macchine diverse da questa secondo me potrebbe essere molto interessante disattivarlo per scattare in studio con delle luci flash dove quindi l'esposizione della scena così com'è non ci serve a niente. Su questa macchina però che non mi permette di montare il flash e quindi anche la maggior parte dei trigger le sono interdetti è un'opzione che probabilmente verrà usata un po' di meno. Vista mirino ottico, anche questa è un'opzione che va nella direzione detta poco prima ovvero noi possiamo andare a impostare una vista naturale nel mirino in modo da vedere la scena come la vedremo con i nostri occhi senza vederla già processata dai parametri della macchina. Mostra info in scatto, queste sono tutte cose che io di solito non tocco, inverti display se facciamo video e se stiamo vloggando, formati del mirino, come sempre abbiamo i due formati io tengo sempre il primo, dimensioni del filmato, qui sulla tab numero 9 abbiamo le opzioni del video però queste secondo me è molto meglio guardarle avendo attivato la modalità video. Quindi quando noi andiamo a impostare video vedete che ci viene fuori un selettore con cui possiamo scegliere se fare video in automatico o in manuale, io scelgo manuale, a questo punto andiamo a riprendere il nostro menu e vedete che lo troviamo come sempre diverso. Qui abbiamo modalità di scatto che è manuale, abbiamo i nostri formati video, a quanto pare il 4K è un oversampling dal 6K mi sembra anche qui, quindi è un 4K che dovrebbe avere un dettaglio carino, poi abbiamo tutti i nostri formati, tutti i nostri frame al secondo eccetera e possiamo scegliere quello più adatto per le nostre esigenze. Frame rate alto ovviamente è disattivato però noi potremo andare a girare in full HD a 119,9 fps, una feature che è sempre interessante se vogliamo fare dello slow motion un po' più spinto, registrazione audio ovviamente manuale e io vado a impostare manualmente il mio livello, filtro vento io questo lo voglio disattivare non so perché l'avevo lasciato attivo me l'ero dimenticato, il resto delle opzioni dovrebbero rimanere grosso modo uguali, qui abbiamo alcune opzioni diverse però la maggior parte dovrebbero essere come le abbiamo già viste in precedenza. Ora per quanto riguarda l'autofocus qui abbiamo le solite opzioni che abbiamo già visto e vi rimanderei al video che ho già fatto più completo sulle opzioni autofocus delle mirrorless dove ne parliamo in maniera approfondita, qui abbiamo attiva o disattiva, abbiamo la selezione delle aree quindi possiamo scegliere spot, un punto o aree estese oppure intera area che è interessante perché questo ci permette di lavorare completamente in automatico e queste sono macchine che secondo me si prestano molto bene a lavorare in automatico perché sono un po' pensate per quello per un utente meno esperto, infatti hanno meno ghiere, meno bottoni e ci permettono un'esperienza d'uso gradevole quando lasciamo fare tutto a loro. Abbiamo come sempre il soggetto da rilevare e guardate questo è interessante, abbiamo automatico, abbiamo persone, animali, veicoli quindi possiamo dire alla macchina che cosa stiamo fotografando e la macchina sarà più reattiva in base a quello che gli abbiamo detto di cercare. Rilevamento con gli occhi attivo, autofocus, manual focus quindi possiamo scegliere se automatico o manuale. Il rilevamento occhi ragazzi funziona un gran bene su questa macchina, io l'ho provata su diversi soggetti, stavamo registrando dei video e il riconoscimento delle persone funziona molto bene, quindi da questo punto di vista questa macchina ha qualcosa da invidiare a modelli come R7 e R6 ma non tantissimo. Velocità servo filmato, qui possiamo impostare con quale reattività la macchina passerà da un soggetto all'altro. Abbiamo la impostazione tocca e trascina per l'autofocus, in questo caso è disattivata ma io potrei attivarla e mettere a fuoco sul display anche mentre sto guardando nell'oculare, quindi toccando con un dito potrei andare a mettere a fuoco dove voglio anche se sto tenendo l'occhio sull'oculare e la macchina lo capirebbe, in questo momento è disattivata. Impostazioni peaking in manual focus, in questo momento è spento ma io potrei anche attivarlo perché tanto nel momento in cui io sto lavorando in autofocus è comunque spento, nel momento in cui vado in fuoco manuale invece vedo le mie guide di peaking e quindi posso mettere a fuoco in maniera più precisa. Guide di messa a fuoco? Sì, anche questo serve nel momento in cui io andassi a disattivare il mio autofocus perché vedrei delle guide a monitor che mi aiutano a mettere a fuoco in maniera più precisa. Dopodiché abbiamo il menu azzurro che saltiamo perché è sempre uguale, ve l'ho già spiegato tante volte in altri video, andateveli a recuperare. Abbiamo il menu viola che è quello della connettività, quindi tramite questo menu possiamo connetterci a Eus Utility, possiamo caricare sul server di Canon, possiamo connetterci a una stampante wifi, possiamo agganciarci a una rete wireless, connetterci a uno smartphone e fare tutte le cose di cui abbiamo già parlato, vi rimando ad altri video che ho già pubblicato su come si connette la camera, come si scaricano le foto, eccetera. Cose interessanti che forse sono un pochettino più nuove perché io sono le prime volte che le vedo queste, abbiamo la modalità aereo, abbiamo le impostazioni GPS, quindi possiamo scegliere se attivarle oppure no e avere quindi un tracciamento di qual era la location dove abbiamo registrato i nostri file, però sono tutte cose che abbiamo già visto in altri filmati e pertanto vi rimanderei a quelli perché questo video è già fin troppo lungo. Abbiamo il menu chiave inglese, anche questo l'abbiamo già visto e rivisto ma andiamo molto velocemente a vedere tutte le voci, abbiamo un menu che ci permette di gestire i file, quindi la numerazione, la formatazione della memory card, l'autorotazione, abbiamo le impostazioni dell'ora della lingua, abbiamo la selezione del sistema video, quindi sistema americano o sistema europeo. Io di solito uso il sistema americano perché voglio i 24 frame al secondo o i 29,97, io spessissimo lavoro per i social e i social sono americani e quindi preferiscono questo formato. Qui abbiamo tutta una serie di guide che ci possono facilitare, in questo caso sono attive, man mano che diventiamo più esperti possiamo disattivarle. Qui abbiamo le impostazioni del monitor, quindi la luminosità dello schermo, la luminosità del mirino che sono separate, questo è molto interessante. Qui abbiamo le impostazioni sul controllo del tocco, quindi possiamo scegliere standard sensibile o disattivato per quanto riguarda il nostro display touch, io lo lascio standard per il momento. Abbiamo reimposta fotocamera per ripristinare le impostazioni di default, caso mai avessimo sbagliato qualcosa. Abbiamo la possibilità di impostare uno scatto personalizzato, mode C, anche questo non l'ho approfondito, quindi fatemi sapere se vi interessa. Abbiamo le info sulla batteria, quindi la batteria è carica al massimo. Abbiamo le informazioni di copyright, io come sempre vi consiglio di inserirlo, il vostro nome qui dentro perché potrebbe tornarvi utile prima o poi. Dopodiché abbiamo la versione del firmware e passiamo al prossimo menu. Qui abbiamo la possibilità di gestire un po' di cose un pochettino più tecniche. Per esempio la prima voce è l'espansione ISO, quindi se vogliamo avere tutto il range compresa l'espansione che la macchina ci consente, oppure se vogliamo lavorare in un'area un pochettino più protetta. Io ho messo estensione ISO ON perché voglio vedere tutte le potenzialità della macchina. Abbiamo poi la possibilità di personalizzare i pulsanti, quindi vedete tutti i bottoni che abbiamo sulla macchina, quasi tutti i bottoni, possono essere reimpostati con una funzione custom, il che è molto interessante perché possiamo personalizzare la macchina a seconda delle nostre esigenze. Possiamo personalizzare anche l'anello di controllo a cui possiamo andare ad assegnare una serie di funzioni. Io non mi ricordo più che cosa gli ho assegnato, gli ho assegnato la modifica dei valori ISO, così posso modificare gli ISO con l'anello di controllo invece di dover entrare in un sottomenu. E poi abbiamo la possibilità di cancellare le impostazioni personalizzate in modo da tornare con la macchina come nuova. Rilascio otturatore senza obiettivi off, questo potremmo metterlo on in rari casi se vogliamo scattare senza obiettivo o con un obiettivo di terze parti che magari non viene riconosciuto dalla macchina. Ritrazione obiettivo allo spegnimento, questo per obiettivi che si ritraggono, era on di default e lo lascio così. Cancellazione di tutte le funzioni personalizzate, qui possiamo resettare completamente la macchina. Dopodiché abbiamo il nostro solito menu stellina verde che ci permette di creare una tab personalizzata dove andiamo a inserire le cose che usiamo più spesso. Per esempio io gli potrei dire che voglio creare una nuova scheda e qui andiamo a vedere che cosa mettiamo dentro. Quindi seleziona elementi da registrare, io gli potrei dire per esempio che voglio compensazione dell'esposizione, dopodiché voglio riprese in HDR PQ, dopodiché voglio modi di lettura e nel momento in cui io gli vado a dire ok, vedete che abbiamo creato una nuova scheda sulla stellina verde con dentro compensazione esposizione, ripresa HDR, bilanciamento del bianco eccetera e tutte le funzioni che noi andiamo ad aggiungere si trovano qui. Dopodiché se creiamo più tab nel menu verde si vanno ad aggiungere dei numerini e possiamo aggiungerne fino a un massimo di non lo so perché non ho mai superato le quattro. Altre cose interessanti che possiamo vedere su questa macchina è il bottone Q probabilmente, quindi nel momento in cui noi premiamo il bottone Q situato qui in mezzo abbiamo la possibilità di selezionare tutte le impostazioni principali della nostra macchina, molte delle quali le abbiamo già viste, abbiamo la possibilità di selezionare la modalità in cui stiamo registrando, abbiamo la possibilità di scegliere che metodo di autofocus vogliamo utilizzare, abbiamo la possibilità di impostare il soggetto da rilevare e tantissime altre voci che abbiamo già visto le ritroviamo tutte qui per un setup più veloce. Abbiamo anche un rapido sguardo alla macchina da vicino, come potete vedere questa è la nuova slitta di cui vi parlavo in precedenza, abbiamo i bottoni che sono tutti situati sul lato destro della scocca, così teoricamente possiamo fare tutto con una mano sola, quindi abbiamo i bottoni sulla cima della nostra scocca vicino all'otturatore poi abbiamo una serie di bottoni più in basso dove normalmente andrà a riposare il nostro pollice. Sono tutti più o meno a portata anche se essendo un corpo piuttosto piccolo per chi ha le mani grandi potrebbe non essere facilissimo raggiungere tutti questi bottoni. Molto bene amici eccoci qui tornati in studio per le considerazioni finali su questa piccola amica. Come avete potuto vedere si tratta di una macchina piccola, al pari probabilmente di R100, soltanto che io non ho più EOS R100 in mio possesso perché l'ho restituita nel momento in cui mi davano questa, quindi una comparazione tra le due in realtà io non l'ho mai veramente fatta. Le cose principali le abbiamo viste, questa è sicuramente una macchina che si comporta meglio sotto praticamente tutti i punti di vista, con una sola eccezione la hot shoe, la slitta sulla nostra macchina perché come visto Canon EOS R100 aveva una slitta normale, qui abbiamo la slitta nuova che ci permette di fare delle cose in più ma ha anche delle cose in meno. Ma allora per chi è questa fotocamera? Per chi è consigliata e per chi invece no? Beh vi voglio dire la verità ovvero io ancora non l'ho deciso, per cui vi consiglio di rimanere sintonizzati perché parleremo ancora di questa macchina in prossimi video in cui vi farò vedere qualcosa di quello che sto facendo perché la sto portando anche su scenari di lavoro, quindi la sto usando per fare dei lavori, l'agenzia per cui lavoro mi commissiona delle cose di volta in volta, io sto utilizzando anche questa macchina per portare a termine questi lavori, quindi nel corso dei prossimi video andremo a vedere come si è comportata nelle mie varie uscite. Vi ricordo quindi nuovamente di iscrivervi in maniera tale da non perdervi questi contenuti di prossima uscita. Signori è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi, io e Canon vi diamo appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti.